Una ricca giornata di sport e di appuntamenti alla palestra del Karate di Arezzo. Quali sono stati gli appuntamenti principali di questa giornata? Abbiamo suddiviso in maniera equa la giornata, incentrando la mattinata a disposizione per i bambini, per i più piccoli, un percorso propedeutico, poi a livello di katà, katà individuale, katà squadre. E li abbiamo liberati subito, anche perché essendo piccoli hanno necessità di non rimanere oltre misura. La seconda parte della giornata invece è incentrata sui katà di alto livello, quindi stiamo parlando di cinture nere, cinture nere e qualcuno riduce anche da qualche campionato del mondo, qualche campionato europeo. Questa è una selezione che stiamo facendo per portare una rappresentativa italiana in Polonia, in quanto a ottobre avremo dei campionati mondiali, dalla WTKF, dalla World Traditional Kadet of Federation. E quindi stiamo cercando di selezionare i più bravi per portarli, poi fare bella figura a livello nazionale, a livello internazionale. Tutte le età, ma soprattutto anche atleti speciali, se così possiamo dire, abbiamo visto impegnati in questa giornata. Sì, noi li chiamiamo Kada Boys, sono i ragazzi del karate adattato a diversamente abili, non è un acronimo di comodo, ma davvero hanno dovuto sviluppare delle diverse abilità per poter anche loro fare karate. Sono entusiasti di farlo, è un progetto che l'associazione Ombudogio, che anche l'associazione di promozione sociale, sta portando avanti dal 2010. Sono ragazzi e hanno partecipato alcuni anche ai campionati internazionali per disabili. Stiamo proseguendo su questa strada, i risultati sono molto incoraggianti. Quindi un'altra veste dell'arte marziale, non soltanto per il combattimento, non solo per la difesa personale, non soltanto per i bambini in ambito di propedeutica al karate, ma anche karate come è nato. Cioè è nato con l'obiettivo di migliorare la persona. Anche un fine terapeutico volendo. Sì, diciamo di sì. Quindi è questo l'obiettivo, migliorarsi. Non importa il delta. Abbiamo visto tante medaglie, tante coppe, insomma sono state anche tante premiazioni in questa giornata. Eh sì, perché nel totale abbiamo avuto più di 150 atleti. Abbiamo una grossa rappresentanza da Torino, 4-5 associazioni da Roma. Alcuni hanno dovuto dare forfare perché è una data un po' strana. Ci sono altre attività agonistiche in corso a livello nazionale. Però è un primo passo, non abbiamo voluto aprirci più di tanto perché l'organizzazione sta crescendo molto lentamente, però a piccoli passi però sempre avanti.